Paolo Totò, da poco ho lasciato la categoria professionistica ma vincere anche tra gli amatori a Capodarco è stato un successo straordinario. Sì, sì, un successo straordinario, è andata benissimo, puntavamo a Capodarco e quindi le altre due corse le ho fatte perché comunque volevo anche puntare alla maglia, quindi ho fatto hand plane, è andata benissimo. Grazie.